Musica Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati a Rosso e Nero. Con l'elezione del nuovo Presidente del Senato, la sinistra, cioè il PD di Bersani, sembra aver trovato una nuova costola, cioè quei 12 grillini che hanno consentito la vittoria di Grasso. Ricordo che l'espressione costola della sinistra se l'inventò Massimo D'Alema dedicandola alla Lega dopo che Bossi fece cadere il primo governo Berlusconi. Oggi la nuova costola della sinistra, appunto, sono i grillini, consentiranno a Bersani anche di varare il governo garantendogli la fiducia al Senato? Cosa ne dite? Sarà così oppure no? I nostri occhi? Beh, diciamo, sicuramente l'esordio non è stato dei più felici e ha dimostrato il fatto comunque che tra il dire e il fare, anche per Grillo, c'è comunque di mezzo la difficoltà poi di andare a gestire un'attività nel Parlamento Romano che sappiamo... Mi scusi che abbiamo i cittoli del TGC, prego. Sì, stavo dicendo che quindi tra il Parlamento Romano sta in un qualche modo dimostrandosi un ostacolo, se vogliamo, forse più difficile rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali di Grillo. Come d'altro canto si è rivelato in vent'anni per la Lega che tanto faceva la cattiva e la dura e poi si è ammorbidita al vento del Ponentino. L'esordio lo sembra confermare. Tra l'altro Grillo è anche superato, a mio avviso, da quello che sta avvenendo nella società civile perché i nodi vengono al pettine, abbiamo visto la notizia di Cipro, ma nella società civile noi vediamo comunque quotidianamente che i problemi non è che si fermano di fronte alle attività parlamentari di Bersagno e di Grillo e addirittura lo stesso Movimento 5 Stelle viene superato da movimenti civici o di cittadini che addirittura a livello individuale vanno oltre. Faccio un esempio, ci sono due ragazzi, Anna Durigone e Maurizio Giamo che hanno iniziato uno sciopero della fame a Treviso e in quel caso il loro obiettivo non è il Parlamento ma è la Regione Veneto per obbligarla a un impegno. A un referendum? Da cinque giorni questi ragazzi sono al basso individuali. Secondo lei i grillini diventano o no costora della sinistra? Lei che analisi fa? Ma in questo momento lo sono stati nelle elezioni del Senato, vedremo, ma credo che avranno difficoltà a non esserlo. Avranno difficoltà a non esserlo. O nasce un governo o vai a votare a giugno. Io credo che ci sia in realtà, visto anche la particolare configurazione costituzionale dell'Italia, la storia, non sia una scelta così secca perché adesso si presenta questa situazione, però non scordiamoci che comunque anche per le elezioni dei Presidenti di Camera e Senato si era partiti con delle ipotesi iniziali che poi hanno avuto una loro evoluzione. Da questo punto di vista io non sono convinto che la scelta sia poi così secca. Cioè può essere anche la scelta di oggi, ma noi ci troviamo in una situazione veramente dinamica. Una situazione, tra l'altro, dinamica anche in virtù della situazione in cui ci troviamo. Ma non solo, cioè nel senso, noi non abbiamo solo la situazione del Parlamento e del governo italiano. Rendiamoci conto che la dinamicità è anche nella nostra città. Lei faceva riferimento, per esempio, che i grillini in Veneto hanno una particolare situazione. Io voglio darle uno scoop che è arrivato mentre eravamo in trasmissione. Domani alle 14.30 si insedierà la Commissione giuridica presso la Regione Veneto che ha l'incarico di studiare il percorso per l'indizione del referendum dell'indipendenza del Veneto. Questo è un fatto. Zaia ha dato comunicazione di questo. Io credo che sia anche prevalso il buonsenso, per cui quel fatto che citavo all'inizio di questi due ragazzi che hanno iniziato lo sciopero della fame, presumibilmente anche nella giornata di oggi si interromperà, credo. Facciamo così. Però questo è un fatto che cambia l'equilibrio. È un fatto che cambia l'equilibrio anche a livello italiano. Allora, stabiliamo una regola. Usato basta, stabiliamo una regola. Ogni volta che viene uno di indipendenza Veneto, i primi cinque minuti fa lo spot per il referendum. Dopo però parliamo del... No, ma l'ho dato uno scoop. Ma che scoop mi ha dato? Ma che domani avermi dato uno scoop? Zaia ha annunciato che si insedia domani alle 14.30 la commissione giuridica. Io dico questi fatti... Mi dica anche la data dell'indipendenza del Veneto. No, ma la Regione non è indipendenza del Veneto. Comunque, io dico che questi fatti hanno un influsso anche sul governo italiano. Per cui, se oggi ci troviamo con l'ipotesi di un Bersani che riceve un incarico... Sta tremando l'idea che si insedia la commissione giuridica? No, io dico che comunque queste cose hanno un impatto. E le dirò anche una cosa, che probabilmente i grillini bruceranno Bersani e appoggeranno un altro tipo di candidato, che sia Renzi, che sia un altro, proprio in virtù del fatto che noi oggi ci troviamo a discutere di una cosa all'interno di un equilibrio dinamico. Cioè, non sono bocce ferme, ragazzi. Cioè, la situazione sta crollando. Anche a livello italiano, io non credo che sia così stabile. Io voglio un parere giuridico. Sono costretti a invitare quelli di indipendenza veneta se continuano a parlarmi di sto referendum e si rifiutano di parlare dell'argomento del giorno. Io so solo. Basta, chi avrebbe mai detto che una come la Bodrini diventava presidente della Camera? Ma non è mica stato Grillo? Adesso si parla... Ma per dire, insomma... Ma in Italia... Ma infatti è questa la tesi. Cioè, sicuramente cambia la prospettiva, l'influsso di Grillo. Adesso non so se è come se lo auspica Grillo, ma sicuramente non è come se lo auspica Bersani. Cioè, già le Camere del Senato si è dimostrato. Sicuramente questo avverrà anche per il governo e anche per le cose successive. Nessuno sa quanti grillini possano seguire le sirene del PD che in questo momento, anche attraverso un uso mediatico di regime, stanno cercando di lavorare i fianchi il partito di Grillo. Come, insomma, d'altro canto è sempre avvenuto in Italia quando ci sono stati dei movimenti popolari che in un qualche modo hanno cercato di cambiare quelle che erano le logiche volute dall'establishment che fosse di destra o che fosse di sinistra. Però è chiaro quindi che ci troviamo di fronte a un cambio del sistema politico. Però una cosa è certa. I partiti italiani sono morti. Cioè, nel senso, io non so i grillini o Grillo verso dove, quanto riusciranno a raggiungere l'obiettivo. Però è chiaro che il PDL o il PD-L o il PD, come volete chiamarli, sicuramente sono arrivati ad un momento critico del loro ciclo di vita. Hanno ancora un funerale numeroso, 10 milioni di partecipanti. Sicuramente. Però sicuramente hanno perso molti voti. Sicuramente Grillo, come obiettivo da un lato, è quello di aumentare il proprio consenso. Dall'altro, anche quello di minare la vecchia classe dirigente. Non sappiamo quanto ci riuscirà. Però sicuramente ha dei numeri in mano. Ricordiamoci che siamo iniziati. Ma a parte questo. Voglio dire, però non è che si sconfigge questo sistema demonizzandolo. Si sconfigge... Applicando la Costituzione. No, fermo. Anche per voi che volete il Veneto autonomo. No, lo si applica... Scusa, questa è una questione tecnica. Lo si applica costruendo un sito internet migliore. Cioè, adesso qua, non è cattiveria, ma se Obama è diventato Presidente degli Stati Uniti è perché anche ha comunicato, per esempio, anche sul web. Noi, chiaramente, gli Stati Uniti sono un'altra cosa, un'altra società. Però non è che è demonizzando internet che lo si sconfigge. Lo si sconfigge creando un sito migliore. Ma io non voglio sconfiggere. Creando contenuti migliori. Io non voglio sconfiggere internet. Creando proposte politiche migliori. Se prendiamo ordini da un computer, scusate un attimo. No, ma non è questione di ordini, è questione di comunicazione. No, ma non è questione di ordini, è questione di comunicazione. Se prendiamo ordini da un computer, se il mio computer mi dice cosa devo fare, e dall'altra parte dice di essere grillo, può essere anche chiunque. Ma scusate, se il partito è finanziato dalla pubblicità, scusate. Lei lo sa, Bordin, che ci sono state un'infinità di film di fantascienze, di libri di fantascienze, che spiegavano che a un certo punto le macchine avrebbero comandato agli uomini. Ma non è così. Può essere che la rete sia diventata questa macchina che comanda. Il precedente da cui siamo partiti, bisogna ricordare che anche la Lega ha avuto questa tentazione, ma poi non l'è più stata una costola della sinistra, è rientrata dall'altra parte. Io credo che non sia un paese serio quello in cui c'è una retribuzione dei parlamentari che è il triplo della media europea. Questo è un fatto che crea una corruzione di fatto endemica o potenziale. I grillini non credo si salveranno da questa tentazione, credo che dobbiamo ripartire dal Veneto. Grazie. 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 Grazie.